Carlo era come tutti i bambini, solo che aveva questa fede immensa. Era un ragazzo come tanti altri, la prima impressione che ho avuto. Non mi era mai capitato di vedere un bambino che partecipava tutti i giorni alla messa. Quello che Carlo diceva lo viveva veramente, era la testimonianza della sua esperienza diretta di cristiano. La chiesa era il luogo dove lui attingeva nel silenzio, nella preghiera, nella adorazione, lo stile che avrebbe portato fuori nella vita. Grazie per la visione! Grazie a tutti!